Buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al nostro video di oggi come vi siete svegliati stamattina cosa state facendo in questo momento qualcuno mi dice che ascolta i miei oracoli mentre la guida la macchina per andare al lavoro qualcun altro li ascolta mentre prende il caffè e invece qualcun altro li ascolta la sera per vedere che cosa si è avverato di quello che dicevo nell'oracolo quindi voi in che momento li state ascoltando dunque cominciamo subito con le energie generali quelle che riguardano qualsiasi ambito della nostra vita casa lavoro famiglia progetti amicizie amori tutto prendiamo non solo i nostri tarocchi universali ma prendiamo anche due carte del tarocco indovino e una carta dell'oracolo della luna ok e vediamo subito quali sono la volontà la prudenza e l'attenzione e lo scettro a quanto pare siamo ancora al top del nostro potere we are in charge we are in power ragazzi siamo in power in power significa abbiamo il potere assoluto dell'universo come diceva il nel film di aladdin quando parlava del genio della lampada tutto il potere dell'universo rinchiuso in un minuscolo spazio vitale che era la lampada e andiamo a vedere in che modo queste energie si manifestano appunto nella nostra giornata o in questi giorni con un re di no scusate un re di coppe un 10 di spade e un 5 di coppe allora a quanto pare noi stiamo manifestando per qualche motivo e su qualcosa una una spinta data dalla volontà e la volontà è la cosa più importante per gli sciamani toltecchi no quello era l'intento allora la volontà era per insomma considerate che ogni branca dell'esoterismo della magia delle spiritualità dà importanza a un elemento un elemento inteso come caratteristica umana come impulso umano quell'impulso che ci dà appunto il potere di creare la nostra realtà per alcuni ora non ricordo esattamente per chi la volontà ma probabilmente per qualcuno che faceva parte della golden dawn golden dawn come preferite che non sto ricordando chi esattamente era appunto la volontà per chi non lo sapesse la golden dawn come credo che si pronunci in inglese correttamente era questa società segreta ovviamente che si sviluppò in inghilterra alla quale parteciparono alister crowley arthur weight madame blavatsky e tanti esoteristi di un certo calibro che noi oggi conosciamo e che studiamo dunque noi stiamo manifestando stiamo creando siamo dei maghi in qualche modo e stiamo usando proprio la nostra volontà per creare il nostro desiderio non rimane semplicemente un puro desiderio ma acquisisce un tassellino in più un'energia una frequenza in più e quando vogliamo qualcosa e decidiamo davvero che quel qualcosa deve essere nostro ecco che iniziamo a coordinare tutte le forze dell'universo in modo tale che ci assecondino che ci accompagnino nella nostra creazione sappiamo di poterlo fare perché la carta dello scettro ci mette appunto in una posizione di potere e ci garantisce che noi possiamo fare ciò che desideriamo ma allo stesso tempo la carta della prudenza e dell'attenzione ci mette in guardia perché magari dobbiamo riflettere bene su come portare avanti questo obiettivo magari dobbiamo stabilire fin da subito delle regole per esempio regole da dare ad altre persone che magari potrebbero far parte del nostro piano e del nostro progetto in modo tale che fin da subito siamo tutti d'accordo su come dobbiamo agire oppure regole da dare a noi stessi regole da definire in qualche modo con noi stessi che ci permettano di fare i giusti passi senza correre troppo ma senza essere troppo lenti e senza tralasciare o lasciarci indietro cose magari importanti passo dopo passo io credo che definire una scaletta perlomeno mentale su quali sono appunto le fasi della nostra realizzazione della nostra materializzazione è importante ma associamo a queste energie a queste tre carte e cioè al fatto che il primo principale elemento con il quale noi creeremo questa realtà sono le coppe cioè l'acqua cioè le emozioni evidentemente tutto questo scaturisce da un sentimento scaturisce da un impulso che viene dal cuore un bisogno di manifestare le nostre emozioni e di farlo in modo maturo il re è maturo in modo corretto con chiunque con noi stessi in modo concreto in modo da non solo non solo far vedere ciò che siamo in grado di dare agli altri e a noi stessi ma anche in modo tale da mettere gli altri nella condizione di restituirci ciò che ci spetta il 10 di spade significa questo significa un po' dover fare un sacrificio perché per poter creare una nuova realtà dobbiamo essere pronti a lasciare andare quella vecchia dobbiamo essere pronti a mettere un punto su cose vecchie lasciare che terminino il loro compito nella nostra vita che quindi e quindi riconoscere che hanno fatto parte del nostro cammino fino ad ora ma adesso non devono più farlo non è più necessario che lo facciano possiamo finalmente lasciarle andare non è bello non è sempre semplice però con questo 5 di coppe sembra che non stiamo guardando bene la situazione per come davvero sembra che ci stiamo focalizzando più sulla perdita sui lati negativi che non su quelli positivi cioè magari se abbiamo un progetto perderemo tempo libero sì però se ci focalizziamo su questo non parte bene il progetto noi dobbiamo focalizzarci invece sui guadagni sui benefici che possiamo avere dal nostro progetto di qualunque cosa si tratti se si tratta di lavoro ovviamente lavoro se si tratta di amore ovviamente è un ritorno in termini emotivi in termini di appagamento emozionale però è fondamentale sarebbe fondamentale appunto riuscire comunque a riuscire a guardare il lato positivo di ciò che stiamo creando di ciò che stiamo cercando di ottenere perché se guardiamo il lato negativo manca l'entusiasmo e l'entusiasmo è un'energia fondamentale per qualunque tipo di creazione passiamo però adesso a vedere cosa accade al nostro sacro maschile e al nostro sacro femminile che non vuol dire uomo non vuol dire donna ma sono solamente energie che stiamo canalizzando indipendentemente dal sesso inoltre non non necessariamente sono energie che devono manifestarsi con un partner perché magari non lo abbiamo un partner quindi potrebbero comunque manifestarsi con una persona che al momento ha una certa importanza nella nostra vita che svolge un ruolo determinante e se invece volete una sessione privata perché ragazzi sentite il bisogno di fare una chiacchierata a quattro occhi e definire un po le vostre cose nel privato potete o prenotare dal sito internet come sempre oppure potete mandare un email o un whatsapp e i numeri contatti li trovate tutti nel box in descrizione e adesso andiamo a vedere cominciando con il maschile la prima carta è la carta della morte la seconda carta a uscire è stata la regina di denari e infine il nove di spade ebbene il nostro maschile sta attraversando anzi prendiamo anche una carta del tarocco indovino il nostro maschile sta attraversando senza dubbio una una fase di grande cambiamento che tra l'altro è accompagnata anche da buone notizie dalla possibilità di avere determinati vantaggi in base a come si stanno mettendo le cose e trattandosi di emozioni di relazioni interpersonali di sentimenti sicuramente c'è un qualcosa che sta migliorando o che potenzialmente potrebbe migliorare nella nostra vita solo che il maschile nonostante abbia in realtà una nonostante abbia l'immagine della regina di denari a rappresentarlo e quindi si trovi in una posizione molto solida molto comoda molto piacevole anche sembra avere paura di qualcosa è un maschile che sa che tutto sta andando bene sa che il cambiamento sarà positivo che le cose miglioreranno ma per qualche motivo sta in ansia non è sereno non riesce a rasserenarsi non riesce a sentirsi sicuro c'è questa forma di stress nell'aria che condiziona la serenità appunto del nostro sacro maschile che possiamo essere noi può essere un'altra persona che sta interagendo con noi questo ovviamente potete saperlo solamente voi in base alla vostra storia specifica però io vi posso dire sono comunque preoccupazioni davvero inutili perché sembra che invece proprio tutto stia per andare alla grande vediamo ora il femminile che cosa sta accadendo al femminile con un fante di bastoni la stella è la ruota della fortuna ecco invece il femminile sembra riconoscere meglio sembra comprendere come invece le cose si stanno in effetti mettendo al meglio questo è un femminile che riconosce il positivo il momento positivo ho preso anche una carta del nostro tarocco indovino del sì del tarocco indovino perché perché questo è un positivo un femminile che in effetti nonostante si rende conto che qualcuno a livello caratteriale non sia proprio la persona ideale cioè possiamo essere noi magari a volte a essere un po' ipocriti un po' opportunisti un po' doppio giochisti oppure può essere l'altra persona nei nostri confronti ricordiamoci che siamo esseri umani chi è senza peccato scagli la prima pietra nessuno si salva tutti almeno una volta nella vita siamo stati ipocriti anche a fin di bene dire bugie a fin di bene è un modo di essere ipocriti tutti siamo stati opportunisti e cioè magari abbiamo evitato di litigare con quella persona perché non volevamo problemi cioè guardate il vero significato delle parole non guardate solamente il significato che siamo abituati a sentire che negativizza tutto e che distrugge che ci colpevolizza perché siamo peccatori no non siamo peccatori siamo esseri umani siamo metà animali e metà divini e la nostra parte animale fa parte di noi non va rinnegata quindi nonostante appunto qualcuno magari possa essersi comportato in modo ipocrita o magari in modo anche un po' sborone un po' arrogante comunque ecco qui c'è un femminile che nonostante scelga di non prendere iniziative quindi nonostante scelga di rimanere nel suo e aspettare di vedere come vanno certe cose però sta capendo tanto sta imparando tanto sta guarendo sta veramente guarendo e capisce anche che questa ruota della fortuna questi eventi che accadono possono in fondo essere a nostro vantaggio possono comunque portarci qualcosa di buono quindi ecco in realtà si ci sono c'è la stessa situazione per il maschile per il femminile però il maschile non riesce a vedere il lato positivo invece il femminile si sta proprio focalizzando sul lato positivo e sta approfittando di ciò che gli arriva per una forma di autoguarigione per guardarsi allo specchio per capirsi per per comprendere anche secondo me il punto di vista dell'altro qui c'è un femminile abbastanza aperto abbastanza pronto a mettersi in discussione e ad accettare le sfide sicuramente ci sono appunto il femminile accetta le sfide ma con molta calma con molta serenità e soprattutto con un certo distacco perché guarda gli eventi che accadono guarda le cose da fuori non agisce appunto non fa nulla di eclatante però sa che nel momento in cui dovrà agire perché ci si capirà quando arriva quel momento saprà perfettamente che cosa fare andiamo adesso a prendere le ultime due carte che rappresentano il consiglio per noi per capire appunto come vivere al meglio queste energie di oggi intanto ragazzi vi ricordo che se siete interessati a studiare la tarologia psicoevolutiva con il metodo mai avete a disposizione sia i videocorsi che l'accademia quindi il consiglio è il mago rovescio il mago diritto con il 9 di coppe rovesciato 9 di coppe rovesciato allora il 9 di coppe rovesciato mette in luce quello che non ci soddisfa quello che ci lascia un po perplessi perché sembra che in effetti tutto stia andando bene ma c'è quel qualcosa c'è quel sentire nell'aria c'è quel qualcosa che non soddisfa al 100% che che ci lascia la voglia di avere qualcosa di più e qualcosa di meglio ma qual è il modo migliore appunto per reagire a questo tipo di energia è sicuramente il mago il mago che prende l'iniziativa per creare quel qualcosa per arrivare a quel qualcosa per far sì che l'universo ce lo mandi ce lo metta a nostra disposizione quindi il consiglio è se c'è qualcosa che ti manca agisci e tenta di creartela da solo non aspettare che ti arrivi non aspettare che sia qualcun altro a dartela ma creala da solo e con questo ragazzi io spero di esservi stata utile vi invito appunto se siete interessati ai videocorsi a chiedere informazioni magari mandate un messaggio whatsapp che è la cosa più semplice per far questo e noi ci vediamo alla prossima ciao